Intervistato da René Paquette nel suo podcast CM Punk ha rivelato che in merito ad un suo eventuale ritorno nel mondo del wrestling si ritiene un ragazzo piuttosto esigente, sì ha usato proprio queste parole, lasciando intendere di reputare molto elevato il suo attuale valore di mercato. E ora vi leggo un piccolo estratto estrapolato da questa discussione adattato e tradotto in italiano. Ha detto Punk, non voglio insultare nessuno né da una parte né dall'altra nella WWE o la All Elite Wrestling ma quello che più desidererei sarebbe uno scenario interessante, una storia che sarebbe bello raccontare e ovviamente una folle offerta in denaro. Ma un'eventuale federazione potrebbe risparmiare parecchio sul mio ingaggio se si presentasse davvero con una storyline divertente. E questo è quanto, per il resto, soprattutto a questo punto, mi ritengo effettivamente un tipo decisamente esigente.